Il 4 novembre è stata convocata la conferenza dei sindaci del territorio di Asla 5. Il manifesto per la sanità locale ha chiesto con forza di essere audito. Quali sono le ragioni? La ragione principale credo che siano le migliaia di cittadini che hanno partecipato all'iniziativa del 9 ottobre a Sanzana e prima di questi quelli del giugno 2019 alla Spezia, i quali prima di tutto lamentano il fatto che si decide della loro pelle e della loro salute con decisioni che sono prese a Genova e sulle quali la conferenza dei sindaci visto che non è stata mai convocata dal suo presidente non ha potuto dire niente. Quindi si va dalle liste d'attesa, alle carenze di personale che obbligano le persone a rivolgersi all'esterno a oltre mille interventi in arretrato, ortopedici e di altro tipo. Quindi queste sono le carenze sulle quali vogliamo essere sentiti perché abbiamo anche delle idee. Proprio in queste ore al Ministero della Salute, al Ministero delle Finanze c'è un importante incontro per dare o meno il via libera al piano di finanziamento del nuovo ospedale Spezzino. Secondo lei c'è un rischio di una deriva verso una sanità privata nella nostra città? Questo rischio esiste ed è concreto e deriva dal fatto che non si sa che fine faccia il San Bartolomeo dopo la costruzione del fellettino. Se oggi abbiamo circa 420 posti letto e il fellettino ne tiene 520, 420 posti letto con Sarzana. Con il personale che abbiamo oggi a disposizione non so come si riusciranno a garantire due strutture se non con l'idea un po' folle poi di alienare o di far utilizzare al privato quello del San Bartolomeo o di Sarzana. Credo che sia anche una cosa importante ribadire un concetto che noi abbiamo attenzionato tutti dal Ministro della Sanità a scendere fino all'assessore regionale, fino al sottosegretario costa. Tutti sono responsabili di questa scelta di come finanziare il fellettino che ci costerà 262 milioni di euro a fronte degli 86 mesi dal privato e bloccherà le finanze dell'Asl per 25 anni. La Corte dei Conti, vorrei leggere testualmente, ha detto che la Regione dovrebbe valutare attentamente la convenienza complessiva dell'operazione nei termini che sono stati fissati, onde evitare e di continuare a porre a carico della coltettività ulteriori oneri senza alcun ritorno economico che decidano bene in questi giorni perché tutti saranno responsabili anche economicamente.